E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il nostro update appunto per quanto riguarda il Morning With Crypto dove andremo a vedere quelle che sono le principali news di mercato che ho selezionato per voi nella notte, andremo a vedere quelli che sono i gainers i losers di CoinMarketCap e poi un rapido sguardo alle chart come sempre per capire un po' come siamo messi a livello di movimenti della notte perché abbiamo visto un dump abbastanza importante recuperato insomma andremo a vedere insieme un po' il tutto ma come sempre prima di partire il mio invito è uno, quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti li reputaste utili e interessanti per la vostra analisi, vi invito ad andare a vedere anche i link che trovate qua sotto in descrizione perché sono dei link di servizi che sto utilizzando personalmente e che reputo molto molto interessanti e validi quindi dategli un'occhiata vi ricordo anche che Bingbon è fino a fine mese da promo quindi per tutti i nuovi utenti avete dei bonus abbastanza interessanti poi trovate anche lì in descrizione tutti i dettagli partiamo con la prima news, ieri non sono riuscito a fare il video di analisi tecnica ma non vi preoccupate insomma non è successo niente di che, non sono arrivato con i tempi però comunque sia ho tenuto d'occhio la situazione e dopo vi do qualche accenno in più velocemente due news, allora gli Stati Uniti stanno andando a valutare come poter consentire alle banche di detenere bitcoin, questa è un po' un'indiscrezione che arriva da un report dei Reuters per quanto riguarda la Yelena McWilliams che sarebbe il capo fondamentalmente della Federal Deposit Insurance Corporation che appunto chiede ai regolatori di dare insomma una strada chiara per far sì che le banche possano detenere bitcoin e fondamentalmente in via generale cripto, ovviamente si parte sempre da bitcoin questo fa capire un po' come ci si stia dirigendo in quella direzione, direzione che per chi segue il canale o comunque si informa sa che in generale è una cosa molto, una cosa di cui se ne parla spesso se ne è sempre parlato tanto e questi sono tutti i chiari segnali che continuano ad andare in quella direzione dopo l'approvazione dell'etf quindi dare ulteriore fiducia e ulteriore apertura su uno strumento che vi ricordo sembra scontato banale perché molti sono in questo settore da poco però sono strumenti che fino a veramente qualche mese fa erano considerati il nulla quindi in ogni caso siamo ancora degli early adopters detta questa andiamo a un'altra news che è anche questa abbastanza bullish perché riguarda l'exchange FTX FTX cosa sta andando a fare? È andato a essere molto molto furbo a livello di marketing perché va a acquistare uno slot nel Super Bowl quindi uno slot pubblicitario nel Super Bowl per andare a promuovere appunto le cripto fondamentalmente anche il suo exchange con un audience di 92 milioni di persone perché fondamentalmente lo sapete il Super Bowl in America è uno degli eventi più importanti sportivi che c'è e nel febbraio 2022 si svolgerà FTX si è aggiudicato appunto uno slot per poter promuovere ovviamente sappiamo bene come ragionano sappiamo bene più che altro sappiamo quanto è importante uno slot pubblicitario in questi eventi e il fatto che ci sia una presenza di un exchange crypto che poi a me interessa poco che sia FTX ma che sia un altro insomma è importante perché comunque si va a dare visibilità fondamentalmente questi slot durano 30 secondi è stato venduto per 6.5 milioni di dollari quindi fa capire anche quanto è importante davvero la pubblicità quanto può costare la pubblicità in questi eventi per quanto riguarda i gainers delle 24 ore troviamo Shiba Inu che fa i suoi pump poi fa i suoi dump ragazzi qui dovete essere voi a capire cosa state facendo andando a investire in una coin da 20 miliardi di cap holo più 17 cosmos più 12 tfuel più 12 helium engine insomma stavo guardando è un po' comunque una giornata positiva per l'alcoin è andata abbastanza bene non c'è stato particolare particolari movimenti negativi infatti lo vediamo anche tra i losers se non troviamo granché se non KB con settimana positiva TOR meno 5 ma con un più 72 settimanale Freeway NCP vedete molti di questi sono tutti con settimana molto positiva quindi fondamentalmente non c'è stato chissà che disastro sulle alcoin ma anzi hanno comunque performato abbastanza bene nonostante il fatto che questa notte comunque sia c'è stato un dump con dei volumi anche interessanti rispetto alle ore precedenti siamo andati fondamentalmente nella giornata di ieri a lateralizzare su un trend discendente orario che ora non vi traccio la trendline perché sapete che non mi va di fare troppa analisi tecnica la mattina però appunto immaginate questa trendline che scende non siamo riusciti a tenerla e siamo andati a dampare alle ore 23 e mezzanotte quindi abbiamo fatto un paio d'ore dove siamo andati a ritoccare i 59,8 andando a innescare nuovamente liquidità nuovamente liquidità perché lo vedete è una zona di supporto importante per il prezzo ne avevamo già parlato ora siamo andati a rimbalzare un po' come l'abbiamo già visto qui l'abbiamo già visto qui quindi stiamo andando a fare quel movimento là dove le alcoin fondamentalmente non hanno subito grandi scossoni sono tornati più o meno dove si trovavano ieri c'erano alcune addirittura in crescita bisogna capire secondo me quando sono in queste situazioni fare un po' di zoom out ok e capirla un attimo a livello daily allora a livello daily stiamo tenendo la 12 periodi l'abbiamo visto molto bene questa è una brutta candela ragazzi comunque sia dobbiamo essere onesti quando parliamo delle chart ok perché va a rimangiarsi completamente la bella candela del giorno di prima del 25 ottobre dove abbiamo dato sicuramente di più però ci teniamo sopra sopra la 12 e a questo punto andremo a capire come si andrà a formare qual prezzo perché potenzialmente anche qui è una trendline discendente con una base quindi potrebbe diventare un triangolo e andremo a vedere una potenziale entrata long eventualmente su una rottura di break di questa trendline magari anche un retest e ripartenza ok quindi lo capite che non serve avere fretta non serve andare a farsi film se non tenesse questa zona qua a mio parere ok quindi questa trendline che poi tracceremo meglio continuasse a respingersi non ce la facciamo la zona di approdo che sto osservando è la media a 26 che va anche in corrispondenza con questo livello qui ok che è un altro supporto importante per il prezzo che è in realtà la zona 57 58 mila dollari quindi ricapitolando capiamo bene che non possiamo escludere nulla in questa fase però dobbiamo capire anche come i 60 sta diventando una buy zone cioè sono una buy zone importante per il prezzo l'abbiamo visto qui l'abbiamo visto in queste giornate qui l'abbiamo visto oggi capiremo capiremo molto presto a livello di market cap comunque ci manteniamo molto molto sani 2.62 trillions quindi molto bene e a livello di dominance è partita una correzione dal contatto con la 200 ok e di questo ne avevamo già parlato quindi questo sta dando maggiore spazio al coin anche perché bitcoin ha perso il momentum direi in questa piccola fase qua sicuramente non stiamo parlando generale stiamo parlando molto zoom in quindi molto da vicino ha perso quella che è una una salita parabolica e va benissimo avevamo parlato dello scenario di equilibrio però dobbiamo continuare a fare questo e questo è l'unico metodo che abbiamo per far scendere la dominance che in realtà sta facendo perché abbiamo avuto un ritracciamento dal top sui 67 per andare a ridistribuire sulle alte e infatti anche lo stesso ethereum contro contro dollaro ok sta andando a fare il suo altemai ok sta andando a 4287 prendendo parte e spazio sicuramente da un bitcoin che ha perso quel momentum anche qui attenzione a ethereum perché contro dollaro è molto verticale e la media a 12 è ancora distante e quindi lo sappiamo gli scarichi i flash dump cose del genere succedono anche più profondi cose di questo genere qua succedono quindi stiamo attenti a non mettere gli stop proprio qui perché sono le zone dove il prezzo va a pescare liquidità mi fermo ragazzi ho fatto un po' più di analisi tecnica appunto perché ieri non sono riuscito a fare il video quindi spero spero che possa essere stati d'aiuto ovviamente non sono i consigli di trading né finanziari mi raccomando usate sempre la vostra testa ok mi raccomando detto questo io vi saluto vi auguro una buona giornata ci vediamo poi questa sera con il nostro update legato appunto all'analisi tecnica più approfondita ragazzi ancora una volta una buona giornata a tutti ciao ciao